Dopo l'attentato, il sequestro di massa. Continua l'offensiva del gruppo islamico armato Boko Haram in Nigeria. Oltre 100 studentesse di un liceo nel nord-est del paese sono state prese in ostaggio. Il blitz dei militanti islamici è scattato il lunedì sera, nella stessa giornata dell'attentato, che nella capitale Abuja ha fatto 75 morti.